E rieccoci, rieccoci qua con gli altri ospiti, abbiamo licenziato ed è un termine giusto per chi va con la moto da enduro, i nostri amici enduristi e adesso parliamo con il presidente della Re Castello, con un atleta, con un ragazzo che non è che vedo qua per la prima volta, l'ho visto ancora ma però mi fa piacere che faccia parte di quello che è la nuova dirigenza, diciamo così, della Re Castello ve lo presento subito, eccolo qua inquadrato, Marco Piazzalunga, come possiamo chiamarlo, responsabile dei giovani non responsabile di tutto l'intero settore giovanile, però dei giovani, anche compito difficile, visto che sei giovane naturalmente è facile per certi aspetti ma diventa difficile per altri. In mezzo la regina, eccola qua, di questa disciplina che ormai sta andando davvero a mille, insomma, per chi ha la passione della corsa in montagna, in particolare della rampicata, però insomma, corsa in montagna un pochettino, diciamo, tosta lei è la principale protagonista con grandi risultati in questi ultimi anni e pensare che andava in bicicletta, era brava anche in bicicletta e invece la scopriamo brava anche in questo. E poi il presidente Luciano Merla, con lui ci siamo visti non tanto tempo fa in un altro contesto, insomma, mi fa piacere però ritrovarlo qui. Anche perché con Luciano parto subito da qui Luciano, so che il 10 novembre, lo diciamo subito così, siamo sicuri di non dimenticarlo, c'è una novità assoluta per quanto riguarda l'organizzazione della Re Castello? Novità assoluta? Organizziamo il primo vertical da Gazzaniga al Monte Poieto, esattamente da Rova, la frazione di Gazzaniga. Vogliamo ricordare il nostro primo presidente, Pierino Pievani, che 60 anni fa ha perso la vita sul Cimone della Bagozza e ci siamo sentiti in dovere di ricordarlo con questo vertical. I vertical sappiamo che piacciono, piacciono agli atleti, piacciono alla gente e ci siamo buttati in questa nuova avventura sperando che tutto vada bene. Certo, tra le altre cose tu mi insegni, anche perché io sai che abito lì vicino, insomma, e mi ricordo di un sentiero proprio che da Rova saliva proprio prima a Ganda e poi al Monte Poieto. Cioè un sentiero che magari poi sicuramente io non sono andato forse una volta da ragazzino, ma sarà ancora praticato, ma che adesso torna in auge proprio anche per quella che è la riscoperta di queste vecchie camminate che erano quasi quotidiane per chi amava la montagna e lo sta diventando ancora. Certamente sì, di fatti si chiama 521 vertical perché per tre quarti di gara segue proprio il sentiero 521 del CAI. Parte dalla piazzetta di Rova, è subito molto impegnativo in salita e poi sfocia nella piazzetta di Ganda, c'è un breve tratto di asfalto e poi passando dall'osservatorio direttissimo si arriva in Poieto. Noi pensiamo sia tecnicamente anche interessante, anche se questo tratto di asfalto che va a rompere un po' questa salita magari lo diversifica leggermente per dire dal COCA piuttosto che dal vertical Val Gandino e da altri vertical. Non avevamo altre possibilità, ma comunque pensiamo che un tratto di recupero non faccia male. Beh, anche perché da Ganda fino ai piedi sotto il roccolo ci saranno 500 metri, perciò uno ha giusto il tempo per rilassarsi un attimino per poi salire l'ultimo strappettino. Ecco, come è venuta in particolare questa idea? Al di là del fatto che adesso come hai detto sta andando, ha preso molto piede questo genere di competizione? Ma l'idea è partita dal fatto che il nostro Presidente era scomparso in montagna, Simone della Bagozza. Poi per ricordarlo legnamente abbiamo pensato che bisogna fare qualcosa che vada verso l'alto. E poi anche i vecchi consiglieri insistono tanto sul Poieto, perché Poieto è la nostra montagna praticamente. E ultimamente l'abbiamo un pochettino trascurata. facciamo una gara ancora da Gazaniga al Monte Poieto, però a metà degli anni Ottanta. Per cui sicuramente abbiamo recepito il messaggio dei nostri consiglieri anziani, fondatori dell'area Castello, e abbiamo pensato di riproporlo, stando questa situazione di apprezzamento da parte degli atleti per questi chilometri verticali che sono impegnativi, ma che però anche a livello fisico non ti danno nessun problema, traumatico o meno, perché la salita si sa è impegnativa, ma non hai nessun problema a livello articolare, per cui pensiamo che sia una cosa ben fatta. Bene, ovviamente da quando è stato riscoperto questo genere di competizioni stanno prendendo piede, vedi che stanno nascendo un po' in tutti i paesi e soprattutto su diversi percorsi. Non è questo, non sarà certamente, che so io, Valbondione e Coca perché non è così impegnativo, però sicuramente è una bella tirata, anche perché lì il tempo per andare in Poieto, io quando ero ragazzino lo ricordo, io non sono mai stato uno che andava nemmeno da ragazzo, però voglio dire ci vorrà, io penso che arriverà su un... quanto ci vorrà più o meno. Ma io prevedo che i migliori stiano sotto i 38-39 minuti. Eh, stanno i 145. No, no, perché allora noi abbiamo come punto di riferimento la gara che facciamo nell'82, credo, e allora vise Vertolla impiegando 37-50. Questo è un pochettino più impegnativo, anche se magari come lunghezza leggermente inferiore, io penso dai 38 minuti ai 40, sono veri migliori. Certo. E ovviamente è un rischio anche un po' la data che abbiamo scelto, perché il 10 novembre, sai, potrebbe anche essere che magari il tempo... però abbiamo deciso di farlo comunque, noi abbiamo messo sul debito, anche noi faremo con qualsiasi condizione atmosferica, per cui più è al fiocca il tempestel, non termine il fa. Siamo poi abituati, insomma, dopo tutto, no, anche a queste intemperie che fanno parte della stagione, ma fanno parte anche del bagaglio di uno che ama in particolare salire in montagna. Quando uno ama salire, fare questo genere di manifestazioni, non è che guarda se su in cima c'è la nebbia o piove o fa freddo, va e pensa soltanto ad arrivare. Ci saranno, c'è, secondo te, che tipo di adesione ci può essere? Noi speriamo anche 200 partenti, però per essere la prima edizione ci accontentiamo anche di 100, insomma. Però abbiamo già un buon numero di iscritti e questo ci fa sperare. Poi si sente in giro, no, ma sai, non piacerebbe farlo. Ecco, vorrei dare alcune informazioni tecniche, nel senso che noi non prevediamo l'utilizzo dei bastoncini, delle racchette, perché essendo gara fida non è consentito usare racchette. E poi approfitto della possibilità che ci avete dato per ringraziare ovviamente il comune di Gazzaniga e il comune di Aviatico che anche con le gare ciclistiche ci aiutano sempre tantissimo perché sai che senza l'appoggio delle istituzioni, senza l'appoggio è difficile mettere in cantiere delle gare. Certamente, pertanto bisogna essere preparati anche sotto questo aspetto, le autorizzazioni, eccetera, e sappiamo benissimo che servono. Devo aggiungere una cosa, ripeto, da ragazzo qualche volta sono salito anch'io, è un sentiero bellissimo, è stato recentemente rimesso praticabilissimo, poi personalmente ho pulito, sai ci sono dei punti che poi penso di magari un paio di giorni prima di passare col soffiatore in modo tale da pulire bene anche il fondo, sai adesso c'è il periodo che le foglie cadono per evitare magari l'appoggio insicuro, eccetera. E approfitto anche per dire anche che è campionato regionale di master di chilometro verticale in modo tale che se ci sono dei master che hanno ambizioni di poter vestire la maglia di campionato regionale è l'occasione buona. Beh, io credo che essendo la prima manifestazione avete già legida di un titolo regionale, credo che anche sotto questo aspetto vuoi vedere che qui probabilmente, e qui mi riaggancio a quello che succederà a marzo, tengono un po' in considerazione la grande novità della mezza maratona che avete ideato e che ha avuto un grande successo e che a marzo riproporrete. Perché poi alla fin fine sono biglietti da visita importanti questi, no? Quando uno dice la Re Castello, ah sì, la Fidal, eccetera, è quella che ha organizzato, eccetera, ecco che allora si aprono un pochettino più facilmente le porte. Certo, io di questo ne sono certo, anche se io sono anche lì un pochettino parte interessata in quanto sono consigliere regionale della Fidal e devo dire che però la Fidal, la Fidal vera, quella grande, quella centrale, quella che vede l'atletica principalmente, l'atletica si fa in pista ed è giusto ed è vero. Però io penso che la corsa in montagna sia importante per le nostre valli, per valorizzare. Tu, io ho avuto la fortuna di sentire prima quelli che ci hanno preceduto, erano gli enduristi. Cioè non bisogna porre freni e impedire che questi ragazzi facciano lo sport, anzi bisogna servirci dello sport per portare gente, per fare il turismo, per fare... e credo che la corsa in montagna debba essere vista anche in questa ottica. C'è da dire anche che ultimamente oltre i chilometri verticali vanno di moda le sky race, vanno di moda i trail, su questo io sono un pochettino più scettico perché penso alle caviglie, alle ginocchia degli atleti che su certi percorsi vengono messi veramente a dura prova. Comunque credo che lo sport sia un veicolo importante anche per il turismo, per creare movimento, per creare lavoro anche se vogliamo. Io mi ricordo, e questo è un aneddoto ma che voglio dire, voglio raccontare, sarà lontano perché sto parlando di corse in montagna, il responsabile della nazionale Balicco organizzava a mezz'oldo i campionati italiani perché voleva rilanciare un po' la Val Brembana, l'alta Val Brembana e in qualche modo ci è riuscito, questo vuol dire saper anche vedere un attimino più in là di quella che è la manifestazione fine a se stessa, cioè riuscire a far entrare determinate situazioni nell'ambito del nostro territorio che sono importanti. Il nostro territorio in questo momento ha bisogno di essere conosciuto da più persone, frequentato da più persone proprio perché non abbiamo più quella famosa, quel modo di dire di una volta in cui si diceva andiamo in Valseriana, tutti lavorano eccetera, adesso in Valseriana il lavoro è venuto a mancare e bisogna pensare a qualcosa di diverso. Credo che la vostra sia stata una bella idea, anche perché adesso tu mi insegni e poi daremo la parola a Samantha che quando si sale al Poglietto la vista è meravigliosa, insomma quando siamo a quota 1.300 non è che siamo nemmeno ai 2005-2007 della Presolana, però non ho nulla da invidiare perché se la giornata è splendida su dal Poglietto si vede addirittura gli appennini. Ecco a questo riguardo speriamo che il tempo ci sia amico, proprio sabato eravamo su per mettere a punto le nostre cose, sabato era una giornata splendida e penso che il Monte Poglietto sia sotto questo aspetto bellissimo, facilmente raggiungibile, molto vicino a Bergamo e a Milano per cui penso che se la gente verrà al Poglietto si troverà bene anche perché ci sono i ragazzi giovani che hanno rinanciato il rifugio molto Poglietto, c'è la possibilità di andare di fine settimana anche d'inverno per cui funziona, funziona la cucina, funziona l'albergo completamente, hanno rifatto la cabinovia che porta da Aviatico, per cui credo che sia un posto bello da visitare, facile e molto vicino alla città. Perfettamente ragione e devo dire, ahimè, forse è stato per tanti anni un pochettino abbandonato perché tutti siamo un po' responsabili, perché tutti si pensava di andare su a 3000-2005 piuttosto che quando invece questo Monte Poglietto è sempre rimasto lì, è sempre stata una gran bella montagna, insomma perlomeno per quanto riguarda, anche perché ricordando per gli appassionati di roccia, lì vicino c'è la cornagiera che non è dove ci sono delle belle vie, brevi, ma sono veramente belle. Grazie, abbiamo un minuto, Samantha, poi ritorno ancora da te. Allora innanzitutto due parole sulla tua stagione, com'è stata? È stata inaspettata e bella, penso che siamo tutti felici di quello che siamo riusciti a raggiungere, tante vittorie, tante soddisfazioni, la maglia nazionale è stata due volte, quindi c'è poco da dire. L'hai fatta breve, però adesso mi dici tutti i titoli, o perlomeno, non tutti perché se no ci vuole una settimana, però quelli più importanti perché so che le soddisfazioni sono state parecchie. Certo, a parte le vertical vinte a inizio stagione, poi ho avuto l'onore di vestire appunto la maglia nazionale al campionato europeo e mondiale, in cui ho vinto la medaglia d'oro in entrambe le gare, però la medaglia d'oro a squadra. Insomma. E niente, poi alla fine sono quelle le vittorie. Chiama le poche, per te che credo, andiamo indietro, cinque anni fa non sapevi nemmeno che cos'era, né la vertical, né la montagna, né la corsa in montagna. No, fino a due anni fa non lo sapevo. Due anni. E questo vuol dire avere qualcosa nel DNA che sicuramente può fare la differenza. Chiedo la vostra comprensione, tre minuti di pubblicità, rientriamo, poi andremo a conoscere anche questo giovane, che è la linfa nuova anche della Re Castello. Mi fa piacere che ci sia questo ricambio in ambito di quella che è una delle più gloriose e datate società della Valle Seriana. State lì. E di nuovo in studio, di nuovo con voi. Allora abbiamo parlato con Luciano Merla di quello che è l'appuntamento del 10 di novembre questa, per la prima volta, questa gara importante che soprattutto ha, diciamo così, un sapore un pochettino antico, quello per gli abitanti della media Valle Seriana, quello di scoprire i sentieri dove peraltro anche io qualche volta, dicevamo prima, ci sono stato, questa chilometro verticale da Rova al Monte Poglieto. Poi abbiamo cominciato a interloquire con Samantha Galassi la storia di questa ragazza, tra l'altro giovanissima, ve l'avevo già raccontata quando sei stata, credo qualche mese fa, qui ospite in trasmissione e lei che ha sempre praticato ciclismo anche a certi livelli insomma e poi si è convertita, è venuta a abitare in Valle Seriana per diversi problemi, alcuni problemi, anzi piaceri, credo personali e adesso ha messo casa in Valle Seriana, ha trovato una grande famiglia che può essere a Re Castello che gli sta dando anche quelle che sono, diciamo, le possibilità di gareggiare e lei invece nel ciclismo a questo punto ha scelto un'altra disciplina. Ha già vestito la maglia nazionale, credo che per te sia stata una cosa forse capitata magari fra capo e colo senza nemmeno rendertene conto perché con la bicicletta chissà quante volte l'hai inseguita la maglia della nazionale e invece dopo due anni qui è arrivata già, insomma ecco questo è il pensiero che ti ha, diciamo così, preso fin dall'inizio, giusto? Giusto, è vero, nel ciclismo ho tentato tante volte dentro la nazionale e non ci sono mai riuscita, qua l'anno scorso dopo la prima stagione con Luciano abbiamo parlato e io ho deciso che sarei andata a fare il campionato europeo nel 2013 e quindi ho iniziato tutta la mia preparazione da dicembre-gennaio appunto per andare a fare questo campionato e è stata un'aspettata perché vabbè era comunque un sogno e dici dopo un anno che corri è quasi impossibile riuscire a battere atleti che lo fanno da una vita, però proprio a caso non è arrivata, ci siamo comunque preparati in una specialità che era tutta salita e che sapevamo che comunque ci si poteva difendere bene e così è stato. Io l'ho sempre detto, per arrivare a certi livelli in qualsiasi sport bisogna avere tante cose, certamente te la voglia, la convinzione, la grinta per poter arrivare lì non è mai mancata e nel ciclismo e nemmeno in questa tua nuova avventura, dai. Eh sì, sicuramente la mia grinta è la cosa che mi dà più forza appunto per riuscire ad arrivare sempre in vetta. E volete mettere una ragazza che arriva da una regione come la Toscana dove è vero ci sono anche le montagne, ci mancherebbe ma c'è anche un bellissimo mare e invece di trovarla qui in terra vergamasca vestire la maglia nazionale, lei diciamo così che si sta ritagliando un posto importante in quello che è la corsa in montagna o soprattutto anche in queste specialità, queste vertical che non disdeghi mi pare, anche se dalla corsa in montagna le vertical qualche differenza c'è? Sì, c'è la differenza che le vertical praticamente sono tutta completamente in salita, facciamo mille metri di dislivello in pochissimi chilometri e quindi sono tutte salite ripide, non c'è un attimo di respiro, mentre invece le corse in montagna può capitare il percorso ondulato o anche quando è tutta salita, però ci sono sempre delle salite un po' più leggere e punti dove comunque puoi sempre respirare. E io però, mi piacciono entrambe, però quando sei lì a scalare in mezzo alle rocce ok, ti dà un'emozione particolare che comunque mi piace tanto. Ebbè, indubbiamente, insomma intanto vediamo e spero che Luciano non si offenda, se gli metto non avendo disposizione materiale della Re Castello metto la gara del Segredont, una gara molto bella, tra le altre cose, e qui devo dire che il tuo amico Franco Testa, quale peraltro so che siete in buoni rapporti, ha avuto una grande idea nel proporre questa, un'altra vecchia gara che ha risollevato la voglia di chi appunto ama questo genere di competizioni. Assolutamente sì, parlando del Gav Vertova, noi ultimamente stiamo collaborando tanto perché loro danno una mano a noi con la mezza maratona e noi diamo una mano a loro anche se in forma minore rispetto a quella che ci danno loro nel Segredont. Volevo dire due parole riguardo di Samantha perché lei è vero che è forte, molto forte in salita nei chilometri verticali, però voglio ricordare che lei ha fatto il mondiale di corsa in montagna, che non era solo a salita, ma era salita a discesa. Allora praticamente dobbiamo dire che la nazionale è composta da quattro atlete, giusto? Lei ha fatto sia l'europeo che era tutta salita, sia il mondiale che era salita a discesa. Per cui lei ha fatto entrambe queste manifestazioni e come lei solo un'altra atleta, perché poi si sono cambiate le altre due perché ovviamente senza, diciamo, non senza sorpresa lei si è scoperta che oltre che essere fortissima in salita si difende molto bene anche sul percorso misto. Luciano tu che pratichi sport a certi livelli da tanto tempo mi aiuti anche a dire che qui c'è qualcosa del DNA, insomma non è che nasce così soltanto per testa d'argine, soltanto perché lei vuole arrivare, però ha quel qualcosa in più rispetto a altri, insomma. Questo è pacifico, a me piace sempre ricordare la prima gara che ha fatto Samantha, era metti un martedì o un mercoledì mattina e mi dice ma sai io vorrei provare a correre a piedi e proprio la domenica successiva c'era una gara a Chiavenna, penso la gara più tecnica e difficile per chi fa la corsa in montagna. Lei aveva già la visita medica, abbiamo dovuto richiedere solo il duplicato che dicesse atletica leggera, gli ho detto non c'è problema ti faccio il tesseramento, domenica andiamo a Chiavenna e proviamo. A partenza di Chiavenna sono 300 metri di asfalto, poi si inerpico su delle scalette e metti 10 minuti di salita. Io rimango lì all'arrivo ovviamente perché, e poi c'è lo speaker che comincia a dire adesso aspettiamo i passaggi in cima alla salita, allora passa prima la campionessa mondiale che in quel momento non so se era l'Avesco o non mi ricordo neanche. Alice era, Alice, pronti. Ecco c'era comunque gente da nazionale seguita da, al terzo posto Samantha Galassi, cioè tu capisci che mai corso a piedi, cioè ti parte, ti arriva sul terzo dopo 10 minuti di gara, di salita dura, è evidente che oltre che tutto il resto c'è un buon motore e da lì è evidente che abbiamo capito che c'era la possibilità di fare bene. Qualcosa che hai dentro che è più degli altri e che naturalmente poi bisogna anche saperlo estrapolare, tirar fuori, bisogna saperlo farlo tuo e metterlo a disposizione insomma di quello che è il tuo corpo, il tuo fisico e così via. Samantha, dobbiamo dire che hai bruciato le tappe, sei ancora giovanissima, a questo punto si aprono mille porte. Quali vorresti la prima che si potesse aprire per tua soddisfazione, per la soddisfazione di chi ha creduto in te, per quello che potrà succedere insomma? Beh, sicuramente adesso continuiamo a lavorare come abbiamo lavorato fino adesso e incrementeremo gli allenamenti in maniera comunque sempre regolare, senza esagerare e sicuramente adesso ho vestito la maglia nazionale e ho vinto l'ora squadre, poi cercheremo di fare anche un risultato individuale ovvio, che non ci fermiamo qua. Che non sarà poco, non sarà tanto lontano e ne sono assolutamente sicuro. Ti ringrazio, abbiamo trascurato un po' Marco Piazzalunga, mi ha detto insomma io sono arrivato quasi per caso, non dico arrivato per caso, però so che ti stai cimentando anche tu in questa disciplina della corsa in montagna, dal calcio alla corsa in montagna. Che cosa è successo? cosa succederà e le differenze tra questi due sport? Sì, negli ultimi, fino a due anni fa ho sempre giocato a calcio e poi ho sempre avuto diciamo qualche problema fisico legato soprattutto alle articolazioni, al fatto che comunque il calcio è uno sport molto traumatico. Poi mi è successo che una domenica con degli amici che amano molto questo sport della corsa in montagna, mi hanno portato a fare una gara e così per scherzo mi hanno detto dai prova anche tu. Quel giorno lì è andata tra l'altro abbastanza bene e quindi poi mi sono appassionato, ho sempre avuto passione e ho capito che preferivo fare questo sport piuttosto che il calcio dove magari tante domeniche la passavo anche in panchina, invece qui anche se magari non arrivi, hai la possibilità comunque di fare sempre la tua gara, ho molta passione per la montagna quindi queste due cose si legano molto bene. Certo diventa quasi facile insomma scegliere quella che può essere la tua strada e a questo punto però le strade di Marco Piazzalunga potrebbero diventare anche più di una, quella di semplici atleta perché Luciano Merla sta istruendo le nuove leve a livello dirigenziale. Mi pare di aver capito così insomma. Ma è nata così un po' questa sera, me l'ha buttata lì come una battuta, nel senso che la società sta cercando di investire sui giovani e Mari ha preso me come una persona su cui Mari può puntare perché vede che Mari riesco a fare abbastanza gruppo con i giovani dell'Area Castello, con Samantha e non so credo conoscerai Paolo, Poli, Andrea Dolci sono dei giovani molto promettenti per l'Area Castello e sto cercando di fare un bel gruppo, andiamo ad allenarci assieme e ci troviamo alle gare e questo sta facendo nascere un bel gruppo di giovani che facilitano anche l'andamento delle gare e soprattutto per loro e quindi Mari sta pensando a un mio coinvolgimento nel punto di creare un gruppo sempre più solido e per far crescere i giovani nelle società. Certo, anche a livello societario e non soltanto come atleta presenti alle gare ma come portatore anche di nuove idee quello che possono essere le gare per i giovani oppure riunire questi giovani e farli capire l'importanza comunque di far fatica ma di gareggiare e di partecipare. Ecco, la differenza fra il gioco di squadra, hai detto ogni tanto andavo in panchina invece qui anche se magari arrivo dietro agli altri però la soddisfazione di essere comunque partecipe dalla manifestazione e dalla competizione. Esatto, è una disciplina che ti permette ad ogni gara comunque di esprimerti e comunque anche se sembra molto uno sport individuale alla fine fra noi si fa diciamo comunella e quindi anche se sembra che poi corri una gara da solo è come se tu corressi una gara comunque in compagnia come giocare una partita di calcio solo che invece che giocarla tutti assieme magari ognuno si gioca e si ritaglia il suo pezzo di gara però alla fine vengono tutti uniti come in una partita di calcio e diciamo che i risultati vengono condizionati anche da questo proprio come in una squadra cioè non è solo il singolo che la fa però se c'è un bel clima di gruppo, un bel clima di squadra i risultati secondo me migliorano anche per questo. Certo, anche tu hai scelto un'altra disciplina dove la far fatica insomma che il calcio è vero si corre però c'è qualche momento in cui si può riposare corse in montagna diventano sempre pochi. Diciamo che la fatica non mi è mai dispiacevuta anche quando giocavo a calcio correre non mi dispiaceva e giocavo in fascia quindi di chilometri ne facevo in campo e adesso li sto applicando alla montagna e è un anno e mezzo che corro e mi piace far fatica, mi piace la disciplina del vertical, mi manca la corsa in montagna e qualche risultato piano piano con gli allenamenti sta avvenendo quindi speriamo di continuare. Certo, una battuta su Samantha, avresti mai detto che uno scricciolo così come la vediamo qui questa sera forse la televisione può ingannare ma lei è veramente uno scricciolo questa ragazza tra l'altro simpaticissima perché a me poi la parlata toscana piace tantissimo avresti mai pensato che potesse dopo un anno arrivare a questi livelli e far parte della nazionale e addirittura anche se sta a squadra andare a vincere il titolo mondiale? Sì, penso che vedendola così possa scommettere su di lei, noi ci siamo conosciuti per caso alla gara di casa, alla Val Gandino Vertical in cui c'è stato quasi un battivecco per il fatto che io usavo le racchette siccome ero un neofita allora mi usavo con e diciamo che abbiamo fatto quasi tutta la gara assieme e io l'avevo ostacolata in un pezzo con le racchette senza farla apposta non riuscivo a passarla e poi da lì da un battivecco è andata diciamo questa amicizia e piano piano l'ho vista proprio crescere a livello atletico anche per dire negli allenamenti e spesso molte volte siamo andati ad allenarci assieme mentre nelle prime volte diciamo si faceva allenamento quasi alla pari lei è una che in allenamento ama molto parlare proprio ti racconta tutta la giornata mentre all'inizio riuscivo proprio a risponderle ultimamente dalla metà dell'allenamento in poi era solo un monoloquio solo perché io non riuscivo più a rispondere lei dicevi solo un cenno con la testa esatto magari dopo la fine dell'allenamento gli risponde quindi no è un atleta veramente incredibile anche su gare dure come può essere il coca dove diciamo che tu pensi che magari un atleta magari masco comunque muscolarmente molto più potente possa possa averla meglio lei invece ha un motore e una potenza incredibile e stacca tantissimi atleti anche maschi e per starle per starle dietro o se no appena appena davanti bisogna davvero sudare sette camicie certo stanno stai diventando un po la nemica di tutti non tutte perché quelle ormai non le vedi più anche di tutti perché sai magari uno che pensa anche di essere un bello atleta si vede passare avanti Samantha dice qui vuol dire o sono io che sono andato oppure lei Luciano siamo purtroppo giunti al termine della nostra serata ma avremo modo di vederci ancora per la maratona di marzo aiutami a spiegare ancora cosa succederà esattamente il 10 novembre si parte da piazza di Rova 10 novembre ritrovo alle 8 in piazza di Rova la partenza è alle 10 noi garantiamo a tutti gli atleti il trasporto indumenti in cima garantiamo a tutti i partecipanti basta parti ovviamente arrivati in cima in attesa delle premiazioni si mangia tutti assieme garantiamo il trasporto dal poglietto ad avviatico con la cabino via e ovviamente gadget di partecipazione per tutti molti premi ahimè non eccessivo perché ai tempi che sono ci crea qualche difficoltà per rire purtroppo però devo dire che gli sponsor ci danno sempre una grande mano noi dobbiamo ringraziare ovviamente Radici Group che è il nostro sponsor primario e aspettiamo tanta gente tanti appassionati tanti sportivi che vengano a vedere il nostro verticale in ricordo del nostro primo presidente Pierino Pievani benissimo questo è tutto questo è quanto naturalmente questa ripeto ancora è una stupenda gara uno stupendo sentiero da praticare tanti di voi che magari non l'hanno fatto sono sicuro che ci ritorneranno perché è veramente bello tra le altre cose per al di là che la stagione non è quella dove il sole può dar fastidio però per un bel tratto resta tutta in ombra insomma pertanto certamente c'è anche questa sensazione di questa natura che ti circonda che ti copre insomma che ti aiuta ad affrontare il tracciato 10 novembre alle 9 più o meno ritrovo alle 10 la partenza per poi ritrovarsi tutti su in cima al Monte Poglieto suggestivo Monte Poglieto se la giornata è bella lì poi i sogni possono continuare perché veramente ci può vedere tutto grazie grazie a Marco Piazzalunga Samantha io ti ringrazio ancora della tua presenza ormai non ho più parole per dire quello che stai diventando grazie anche a Luciano Merla e soprattutto a tutte queste idee ripeto ancora l'ha detto lui all'inizio questa voglia di fare sport di organizzare manifestazioni sportive come quella della mezza maratona e praticamente ormai è diventata già una icona con 600-700 partecipanti a dimostrazione insomma che la gente ha ancora voglia di scommettere su quello che è il proprio fisico la propria volontà di arrivare ma soprattutto anche chi organizza la voglia di far scoprire il nostro territorio che ripeto ancora non ha nulla da invidiare a nessun altro posto e allora valorizziamolo anche sotto questo aspetto grazie ancora grazie ci vedremo lunedì prossimo grazie a Angelo dietro la telecamera a Felice in regia e a tutti voi che avete avuto la volontà di seguirci anche questo lunedì se vorrete noi saremo qui anche lunedì prossimo buona settimana